Dal 1 gennaio del 2019 niente più maxibus da 148 posti per Fico. D'orina avanti ci saranno delle navette normali per i turisti e comunque i cittadini che vorranno andare a visitare Fico. Sì, finalmente mettiamo fine ad uno spreco che era ormai sotto gli occhi di tutti e che durava da mesi e che noi abbiamo denunciato diverse volte. E finalmente i Fico bus, questi maxibus appunto da 148 posti, 18 metri, ibridi e nuovissimi, verranno sostituiti con dei bus più piccoli e più adeguati al servizio e al numero di passeggeri che devono trasportare. Mettendo quindi fine a questa sperimentazione che già sin dall'inizio si era visto fosse fallimentare. Noi però chiediamo a Donini, quindi l'assessore dei trasporti e a Gualtieri, la presidente di Tiper, di venire in commissione affinché ci venga garantito che questi autobus vengano rimessi a disposizione dei cittadini, quindi reinseriti nei circuiti ordinari perché sono autobus che sono stati pagati con soldi pubblici. Sappiamo che ci sarà una riunione verso fine febbraio proprio per discutere il servizio. Chiediamo che non vengano fatti i passi indietro. Voi avevate messo in discussione anche le pubblicità che sostanzialmente giravano insieme a questi maxibus. Sì, avevamo messo in discussione diversi favori che erano stati fatti a Farinetti, tra cui il costo di questa pubblicità che veniva fatto a prezzi dimezzati. Chiediamo appunto anche che non vengano fatti più favori perché appunto Fico ne ha già avuti abbastanza. Intanto però il report del Comune annuncia degli ottimi risultati per il turismo bolognese che si presume investa un po' tutte le parti della nostra città. Ma in realtà per quanto riguarda Fico diciamo che dal mio punto di vista è stato un po' un fallimento visto che erano annunciati 6 milioni di visitatori e ne sono arrivati la metà. Quindi questo valore aggiunto che si preannunciava forse non c'è stato. Grazie a tutti.